chi pensate di essere voci dall'infinito attraverso vanda giugno 1998 i fratelli dello spazio chi pensate di essere voi piccole creature umane per non accettare le leggi del cosmo dovete iniziare a capire qualcosa di una vita che è diversa e più intensa della vostra il cosmo è popolato da tante creature ed esseri che sono consapevoli delle responsabilità che hanno nei riguardi dell'evoluzione essi vivono per mantenere l'equilibrio necessario e indispensabile nelle responsabilità alternanti nei riguardi della legge nei diversi mondi